Avrebbero pilotato appalti per la ristrutturazione di immobili del Ministero dell'Economia in cambio di regali e favori. Dieci persone arrestate per corruzione, tra loro imprenditori e funzionari pubblici. Riccardo Corpu, Porcu. Le tangenti per gestire e ristrutturare questo palazzo alle spalle del Colosseo. Qui c'è il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e qualche anno fa le impalcature l'avevano coperto completamente. Un appalto da diverse migliaia di euro affidato a una ditta collegata a due imprenditori, i fratelli Ernesto e Gianfranco Brozzetti. Erano loro, secondo la Procura, a guidare un sistema di favori e tangenti per corrompere i dipendenti delle agenzie fiscali del Ministero delle Finanze in cambio di promesse di posti di lavoro per i figli o per la moglie. Da un lato le richieste, dall'altra la disponibilità. Per gli inquirenti ad orchestrare tutto dall'interno sarebbe stato Massimo Pietrangeli, una vita da direttore di uffici dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli e presidente del Fondo di Previdenza del Ministero dell'Economia. Gli interessi maggiori si concentravano proprio sugli immobili, con proposte d'affalto nettamente al ribasso, impossibile non vincere. I costi però erano falsati e li evitavano col passare dei mesi, al ritmo di continue varianti. Non solo il palazzo di Via Normanni, anche quello di Via Costi, sede dell'ufficio provinciale di Agenzia delle Entrate. Ora per i fratelli Brozzetti si sono aperte le porte del carcere e i loro beni sono stati sequestrati per oltre 9 milioni di euro. Altre otto persone sono invece ai domiciliari, compreso un consulente finanziario di Banca Mediolanum, al momento all'estero. Siamo parte l'ESA, sottolinea il Ministero dell'Economia in una nota. I dipendenti infedeli saranno sospesi, le procedure sono già partite. Viveva su una carrozzina in una stazione della metro di Milano e morto per il freddo, non voleva andare in un ricover per senza tetto. Laura Troia Il portico della fermata Molino-Dorino, periferia nord di Milano, era il suo tetto, la sua casa, la sedia a rotelle. Solo un materasso per terra e qualche coperta per dormire la notte, ma questa mattina Nika Tudor non si è svegliato. Attorno alle 7 e mezza una donna lo ha visto immobile, coperto da un piumone, ancora seduto sopra la carrozzina. Ha chiamato il 112, il medico dell'ambulanza ha accertato che il cuore del clochard si era fermato almeno tre ore prima. Chi frequenta la zona lo vedeva lì da anni.